Musica Sabato 30 settembre 2023, buongiorno, ben ritrovati, buon fine settimana dalla redazione di Teleregioni. In apertura della nostra rassegna stampa abbiamo un servizio precipita, ultraleggero, miracolato pilota, precipitato ieri pomeriggio, un ultraleggero a Campochearo. Il pilota era un 57enne straniero, il servizio di Pierluigi Borragi. Ci troviamo in ufficio, l'aereo planava da direzione di Isernia e ha tranciato i cavi della corrente ed è caduto per terra. Poi siamo scappati a provare a dare un soccorso al pilota. Il momento in cui l'hanno portato via sembrava comunque cosciente, parlava, parlava in inglese e comunque era provato, era un po' sotto shock e non si rendeva conto della situazione. Siamo stati i primi ad arrivare sul punto dell'incidente e ho visto la persona che si alzava in piedi e ha detto wow, fortunatamente è salvo. E abbiamo chiamato immediatamente i soccorsi. Stava percorrendo la tratta a ponte ed era Benevento quando, nei pressi di Campochearo, l'ultraleggero che stava guidando è andato in avaria perdendo quota. Il pilota, un 57enne straniero, ha così deciso di mettere in atto le manovre per un atterraggio d'emergenza. Nella discesa il piccolo aereo ha tranciato alcuni cavi dell'alta tensione lasciando senza corrente elettrica le aziende del polo industriale. L'avvicinamento al suolo non sarebbe stato dei più agevoli ma alla fine il pilota è riuscito a toccare terra senza riportare gravi ferite. L'atterraggio è avvenuto in un terreno circostante la pista di volo di Campochearo. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco. Con loro anche le ambulanze del 118 che hanno soccorso il pilota. L'area è stata isolata per motivi di sicurezza dalle forze dell'ordine. Nel 2013, nella stessa zona di volo, un incidente simile costò la vita al 53enne ingegnere Campobassano Pasquale Falcione. E ancora un servizio. La politica collabori. Questo l'appello dell'arcivescovo di Chieti Bruno Forte in vista delle regionali d'Abruzzo. Il prelato è tornato a chiedere più sicurezza sul lavoro annunciando che la Sabino Esplodenti potrebbe cambiare produzione. Il servizio di Valentina Cialante. La cosa pubblica non sia una partita tra squadre opposte ma fondata sulla collaborazione. L'invito alla classe politica arriva da Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti, che già in passato ha lanciato appelli perentori verso chi è al vertice delle istituzioni. In un periodo come quello attuale, in cui si stanno delineando gli scenari in vista delle elezioni regionali d'Abruzzo, in programma nella primavera 2024 e a tal proposito, sembra probabile la data del 17 marzo, il clima è già rovente con screzzi interni anche agli stessi schieramenti. L'invito è a cooperare tutti, a non vivere la politica semplicemente come contrapposizione, ma cercare di servire tutti il bene comune, ciascuno per la sua parte, maggioranza opposizione, ciascuno però con onestà, serietà e impegno perché ne va del futuro di tutti, soprattutto dei nostri giovani ma anche della qualità della vita di ogni persona in questa città. Padre Bruno richiama tutti alla sinergia e ribadisce anche la necessità di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro dopo la tragedia alla Sabino Esplodenti di Casalbordino e la sua richiesta di convertire la produzione. Che più che mai è necessario che la sicurezza del lavoro sia garantita al di sopra di tutto. Mi hanno anche informato che probabilmente quell'azienda cambierà tipo di prodotto in modo da evitare simili tragedie. Me lo auguro anche per i tanti lavoratori che da una parte devono essere garantiti nel loro posto di lavoro, dall'altra non devono rischiare la vita. E per la nostra segna stampa, come sempre partendo dal regionale molisano Primo Piano Molise, nell'apertura a Pizzone 2, la Bateschieva a Mattarella, no alla centrale, il caso finisce in Parlamento, deputata del Movimento 5 Stelle, interroga il Ministro dell'Ambiente. Nella nota partita da Montecassino il richiamo all'enciclica papale, laudato sì, territorio di inestimabile valore, dono del creatore, il denaro non deve addomesticare le coscienze. Nel centro pagina poi la nostra apertura di rassegna stampa, varia al motore, ultraleggero urta i cavi elettrici, precipita nei campi, decollato da Pontedera, il veivolo era diretto a Benevento, vivo il pilota. Le altre notizie, Asrem direzioni, ecco la lista degli doni, il DS più gettonato non ha i requisiti, i termoli crescono i volumi al porto, 180 mila passeggeri nei primi otto mesi dell'anno. Nel taglio laterale, dentro la notizia, trasferta a Mara, il saluto nazista all'Ottoberfest, 24 anni di Sernia, arrestato in Germania, polemiche a GoGoStreet, food, prezzi alti e gli stand non sono quelli pubblicizzati, delusione nel capoluogo regionale. Il dibattito, spopolamento, come salvare i piccoli centi e gli interessati spunti di conf cooperative. Nel fondo pagina, l'incubatore sociale di Campobasso, svelata la pietra d'inciampo in memoria di Giovanni Tucci, internato in Polonia, ieri avrebbe compiuto 100 anni. Nel taglio laterale il punto, a firma di Umberto Berardo, popolo rassegnato. Il taglio alto è dedicato allo sport. Campobasso nella sfida contro l'Aquila, Mosconi utilizzerà in corsa Corvino. Podismo con risernia 2023. Il miglio delle donne sarà patrocinato dalla Polizia Giudo. Luigi Centracchio sul tatami di Praga per la prova del circuito europeo. Ancora i quotidiani regionali, questa volta quelli abruzzesi, con la prima pagina del centro, nell'apertura a semafori, 50 mila multe in nove mesi. Pescara, il PD, la Giunta fa cassa con le telecamere, masci ridotti gli incidenti. Il taglio alto, Abruzzo, i cantieri a rischio, super bonus, la beffa per i condomini, stop alla prologa per il 2024. Intervista al Presidente sul centro, Marsili, Ita voleva 5 milioni per tenere il volo. Pescara, Milano, le altre notizie. Nel centro pagina, Università Chieti Pescara, bagno di folla per il fisico Schettini, notte dei ricercatori, in 10 mila fanno festa alla D'Annunzio. Il piano della regione nel taglio laterale, liste d'attesa, ecco il via libera, interventi e viste bloccate. I numeri del virus, Covid, infrenata, ma non partono i nuovi vaccini. Ancora il taglio laterale, viaggio dall'Aquila, il viaggio dall'Aquila, Messina Denaro, il caro funebre del boss, senza l'assicurazione. Nel taglio medio scoperti, i finti operatori di Banca Italia, Chieti due donne, sono indagati per truffa, spariti 20 mila euro dal conto di un teatino. Nel fondo pagina, affare da 20 milioni di euro, maxi appalto, rifiuti per tre città, si tratta per la gestione unica Pescara, Montesilvano Spoltore, Franca Villa, capo operaio folgorato, analisi sui telefonieri. Poi c'è il calcio, Pescara calcio, Zeman braglia in panchina e sfida tra veterani. Ancora le testate abruzzesi, questa volta con la pagina d'Abruzzo del messaggero. Nel taglio alto, bombe dopo il rapimento, lo chef sulmonese, Begni Colonico, di nuovo nel mirino della malavita in Ecuador, scagliate Molotov contro il ristorante, non ho ricevuto minacce o richieste di soldi. L'Aquila ha morto Petrilli, vittima di un errore giudiziario. Nel taglio medio, investe la moglie con la Pecar, si indaga sulla dinamica Rebus, Roseto, la donna gravissima, il marito ascoltato dalla polizia. Vezzano, studentessa travolta da boss, ferita. Nel centro pagina, Scanno, rubato il cibo per le galline, orso a gemma, nuovo blitz, l'animale salta sul pick up. Nel fondo pagina, Pescara, la scuola dei grandi, compie 100 anni, l'istituto Tito Acerbo. Nel taglio laterale, invece, vendemmia ha perso fino al 70% del raccolto. Meteo devastante, la CIA alla regione, indennizi. Nel taglio alto, invece, Pescara, come ovente, commerciante, si spegne dopo sette anni di coma. Serie C, il Pineto oggi sul campo della Lucchese, prova del 9, ancora il calcio, Serie C, Pescara in attesa del rubio, dilemma a cornero, Cangiano. Dalle testate regionali, molisane ed abruzzesi, diamo adesso uno sguardo alle prime pagine nazionali, come sempre partendo con la prima del Corriere della Sera. Migranti, la sfida con Berlino nel taglio alto, la premiera a Malta con Wunderlauer e Macron, non si fa solidarietà con i confini degli altri, l'inflazione frena. Meloni è l'ipotesi del complotto, i soliti noti vogliono un governo tecnico, non temo lo spread. Il ricordo del Cavaliere, Paolo Berlusconi, Forza Italia, dovrà sostenersi da sola. Nel taglio laterale, Mosca, dissidenti sempre più divisi, la scelta di Putin, a capo della Wagner, c'è l'ex fondatore. Firenze, la donna uccisa in strada, i tormenti di Clodiana, e quel marito violento. La campagna al via in Lombardia, l'influenza e i rischi, a chi serve il vaccino. Dal Corriere della Sera, uno sguardo alla prima pagina della Repubblica, nel centro pagina, la paura del governo tecnico, Palazzo Chigi sotto assedio, Meloni alle strette, sull'economia, cerca un capo espiatorio, la sinistra spera in un intervento esterno, per eliminarci, ma ai suoi confida, ci giochiamo tutto, da qui all'Europa è difficili i primi mesi, il PD è chiusa nella paranoia, Fisco Banca Italia, i mercati reagiscono alle scelte sui conti pubblici. Nel taglio alto, migranti, nuovo attacco dell'esecutivo, ONG Schiaffo a Berlino, non si fa solidarietà con i confini degli altri. Dalla Repubblica, uno sguardo alla prima pagina del messaggero, nel taglio alto, Meloni e l'avviso a sinistra, nessun governo tecnico, la Premier, gli investitori hanno letto bene la Nadef, lo spread scende, i migranti, Macron e Wunderlaer con l'Italia, alto alla Germania, ma anche il personale, istituti in difficoltà, a scuola l'illusione del tempo pieno, gli studenti perdono il 25% delle ore, Berlusconi Day, la lettera dei figli del Cavaliere, Pestum, tutto l'orgoglio di Forza Italia, Tagliani vinceremo con le idee di Silvio, nel taglio medio, Fedez torna alla paura, emorragia interna, Ferrani lascia Parigi, rapper in ospedale, i medici hanno salvato la vita, nel 2022 fu operato di tumore al pancreas, sentenza a Genova, uccise la sorella appena scontata, per semi-infermità. Dal messaggero, uno sguardo alla prima pagina del tempo. Nel taglio alto, emergenza migranti contro offensiva Meloni sulle ONG, il Premier e le navi umanitarie, portino i profughi nei paesi dei quali battono bandiere, rilancia con Macron il piano in 10 punti, di von der Leyen, eppure il PP da ragione all'Italia. La Polizia chiede il fermo, il Tribunale libera ai clandestini, normativa Unione Europea incompatibile. Nel centro pagina, la sinistra per attaccare il governo, torna ad agitare lo spettro dello spread. Le altre notizie, scoperto un altro buco di zingaretti, la Corte dei Conti ha certificato il debito lasciato in regione, totale 28 miliardi. Nel fondo pagina, contro una moto, morto pure il centauro, falciata sul monopattino, è la quindicesima vittima. Nel taglio laterale, Fondazione Tatarella e Nazioni Futura, il Ministro Ciriani, sia all'Europa, no alle ingerenze. A Pestum, la lettera di fascina, Forza Italia festeggia il Berlusconi Day. Dal tempo, uno sguardo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel centro pagina, Cirielli, tutti i processi a rischio, Brandizzo Morandi, Visibilia, ecco, riecco la prescrizione, i PD prevedono gravi conseguenze sui casi più recenti. Nel taglio alto, la Nadef, più spazi, i deficit grazie al 110, Meloni teme i tecnici, la salva, il super bonus, stragi il riesame, Baiardo va arrestato, Giletti ha detto il vero, sulla foto Graviano. Berlusconi. Dal Fatto Quotidiano, uno sguardo alla prima pagina del manifesto. Un prigioniero nel centro pagina, ad un mese, il cittadino italo-palestinese, Khaled El-Kaizy, detenuto da Israele senza accuse, Roma Tace, Tel Avivank, e oggi le piazze saranno accanto alla famiglia per chiedere media e governo di rompere il silenzio che riguarda migliaia di palestinesi dietro le sbarre. Nel centro pagina, ONG Meloni e Musk contro Berlino, migranti, il governo rilancia le accuse della Germania, il miliardario di Hicks da Manforte, gli incontri di Parlamento e la Valletta, la soluzione stop ai trafficanti. Dal manifesto, uno sguardo alla prima pagina della verità. del taglio alto fiumi di denaro dietro la cotta del governo Crucco. Le marchette tedesche alle ONG servono a foraggiare i partiti. Non solo manovre elettorali, a guidare Berlino, la loro consulta ha inguaiato il sistema di finanziamento e la partita di giro con chi ci porta clandestini è vitale. Il nostro Pemer fanno i solidali con i confini degli altri. Nel taglio medio ha sequestrato il video del Bunga Bunga Dem, gli inquirenti acquisiscono il cellulare della sorella del consigliere d'opposizione a cui era stato inviato il filmato hot di Santa Marinella. Il direttore Renzi attacca il giornale e difende il sindaco e la figlia, dirigente di Italia Viva. Dalla verità, uno sguardo al quotidiano economico del sole 24 ore. Nel taglio alto, inflazione in Europa rallenta al 4,3%, in Italia, carriero della spesa, sopra l'8,3%. Dato l'edì, l'emissione BTP, valore di tasso minimo, garantito al 4,1% per poi salire fino al 4,5%. Debito pubblico, lo spread scende a quota 194, il fabbisogno spingere le emissioni verso 330 miliardi. Manovra in deficit, 15 miliardi su 2022-23, avanzo primario rimandato al 2025. Nel centro pagina Germania, Italia-Francia, le confindustria e strumenti comuni in Europa per finanziare la svolta. Green nel taglio laterale panorama, Berlusconi-Day, italiani a Pestum, Forza Italia, partito nel futuro senza nostalgie, prima di chiudere uno sguardo, come sempre, al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport. Nel centro pagina, dedicato al calcio, mi gioco la testa, gli anticipi che valgono il primo posto, Inter, c'è la Salernitana, Inzaghi dalla scossa, ma si ferma frattesi, in avanti Sanchez, a fianco a Thuram. Milan contro la Lazio di Luisa Alberto, Pioli ripropone Girù e Leao, e conferma Adli. Le altre formazioni di Serie A, Napoli come osi, il ministro Ligerano, no al razzismo, e Garzia punta su Osimen a Lecce. Roma, ma che fa? Ingaggia al top, ma risultati sciocchi, il tecnico finisce sotto accusa. Prima di chiudere, diamo lettura anche del nostro palinsesto. alle ore 11, teatro, alle 13.25, Slu Tour, Monte Silvano, Ferragosto 2023, alle 14, la nostra informazione in diretta con il telegiornale, alle 16.15, teatro, alle 17.45, Camminano Bolise, Pietra Abbondante, 18.30, il docufilm, Mafia e Religione, episodio 1, 19.30, la nostra informazione in diretta con il telegiornale, alle 21, Slu Tour, Pescara, inaugurazione della sede di Teleregione, alle 23, l'ultima edizione del nostro telegiornale. E non mi resta che salutarvi, vi ringrazio per averci scelto, tutti voi un buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.